Buongiorno a tutti! Ciao team! Altro video un po' strano, mi sto divertendo troppo a fare questi tipi di video. Perché? Perché ormai sono un po' fanatica di Instagram e allora vado a cercare tutte le costumizzazioni più belle e più particolari. Oggi andremo a vedere le 10 LOL costume più belle ispirate ai cartoni animati, quindi alle fiabe, alle favole. Pensate a tutti i cartoni che avete già visto e che vi piacciono di più. Chiaramente tutte queste immagini le ho prese da Instagram e lì ce ne sono di meravigliose. Cominciamo subito con la classifica. Alla posizione numero 10, chi ho posizionato? Ho posizionato questa, questa Lille che è stata customizzata veramente bene ed è in versione mini. Ma quant'è carina, quanto è stata brava questa ragazza. Lei è veramente brava, si chiama Chrissy Scooties, fa delle cose meravigliose. Bellissimi i particolari, bellissimi gli occhi, il nasino a cuoricino, tutti i puan e il vestitino. È veramente, veramente caruccia. Ma passiamo alla posizione numero 9. Non mi ricordo chi ho messo, chi c'è, chi c'è, chi c'è. Ah c'è Belle! Sì, allora, anche in questo caso è stato molto difficile fare una classifica perché sono tutte belle. Però in questo caso ho guardato, diciamo, i particolari, nel senso è fatta molto bene. Sono stati chiaramente rifatti gli occhi, riadattato il vestitino, però non è una customizzazione chissà quanto elaborata. Allora per questo ho deciso di metterla alla posizione numero 9. Rimane il fatto che è chiaramente bellissima. E adesso andiamo alla posizione numero 8. Alla 8 c'è un'altra principessa. Ed è Rapunzel! Quanto è bellina! Ma sembra proprio quella del cartone animato. È meravigliosa! Poi ho visto una foto anche da dietro e ha dei particolari nei capelli che sono fantastici. Le hanno messo tutti i fiorellini nella lunga treccia. È fatta anche lei benissimo. Poi ha tutte le, come si dice, le felidi sul nasino. Proprio come quella del cartone animato. È veramente molto bella questa customizzazione. Il vestito è meraviglioso. Vedo anche la gonna tutta glitterata. È proprio proprio bella questa Rapunzel. E ha anche il suo accessorio. Quindi ci sta tutta nella posizione numero 8. E adesso andiamo alla 7. Vi ricordo sempre che questa è la classifica secondo il mio gusto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ecco, alla 7 c'è una famiglia. La famiglia degli incredibili. Sì, forse non si meritavano la posizione numero 7. Non lo so, ditemelo voi. Però ho pensato che comunque c'è stato un gran lavoro per customizzare ben 4 Lole e una Lil. Tra l'altro quella Lillina lì mi sembra proprio Skater Boy. È stata insomma molto brava questa ragazza che le ha customizzate. Perché fare tutta la mascherina così precisa, il costumino con il logo. Cioè, insomma, non deve essere affatto facile. Quindi ho deciso di dargli la posizione numero 7. Ma siamo ancora un po' lontanucci dal podio. Comunque è molto bella questa famiglia ispirata al cartone animato degli incredibili. Adesso andiamo alla posizione numero 6. Oh, non mi ricordo. Chi c'è? Oh, Sailor Moon! Amica Sailor Moon! Avevo 10 anni circa quando uscì il cartone animato di Sailor Moon. Quindi stiamo parlando del 93-94. E mi piaceva da impazzire. Avevo tutte le bambole di Sailor Moon. Sailor Jupiter, Sailor Mars, Sailor Mercury. Mi piaceva da morire. Era veramente, veramente carino. E questa customizzazione mi sembra fantastica. Ci sono tutti i particolari. Dalla coroncina in fronte, al fiocchettino sul vestito, a quei pallini che Sailor Moon, non so che cosa siano, che ha nei codini. È fatta davvero bene. Voi che cosa ne pensate? Sarebbe bello vedere anche tutte le altre Sailor. Chissà se ci sono, se sono state fatte. Di sicuro non le farò io. Però bellissima, bellissima, con questi grandi occhioni. Andiamo adesso alla quinta posizione. Give me five. Chi abbiamo qua? Chi ho messo? Ah, lei. Poison Ivy, uno dei personaggi di Batman. Ma quant'è bella. Ma guardate la meraviglia. Tutto quel decoro che ha sopra gli occhi, al posto delle sopracciglia, il costume, tutte le foglie che ha ai piedi. È meravigliosa. Probabilmente questa LOL era Skater Girl. Penso proprio di sì, dai capelli. Non ce ne sono altre rosse. Poison Ivy è un personaggio che mi è sempre piaciuto. Da bambina guardavo tantissimi cartoni animati di Batman e facevo anche l'album delle figurine. E Poison Ivy, ed era velenosa, mi piaceva tantissimo. Quindi quando ho visto questa costumizzazione non ho potuto non metterla in classifica. Anche perché guardate anche il cerchietto con tutte le foglie di edera, quanto è fatto bene. Gli occhi bellissimi, sembrano proprio che siano colpiti da dei raggi solari. Bellissima, veramente, veramente bella. Caspita, adesso invece il podio è vicino perché siamo alla posizione numero 4. Uhlala, uhlala. E chi c'è? Ah, Jessica Rabbit. Hai un coniglio in tasca? Sei felice di vedermi? Avete mai visto il cartone animato che fine ha fatto Roger Rabbit? Forse no, perché è un cartone animato un po' vecchio ma i vostri genitori se lo ricorderanno. È bellissima questa costumizzazione. Cioè Jessica Rabbit ha proprio questo sguardo così languido. È riuscita anche questa Isabelle Lolls a rendere, diciamo, il corpo della nostra Jessica bello formoso. Le ha fatto anche il seno. Tutto il vestito è super glitterato con questo spacco molto profondo. E che dire degli occhi. Bellissima, bellissima, veramente. Mi piace un sacco. Guarda te il gioco di colore degli ombretti. Le ciglia che sembrano vere. Quell'occhio verde che si vede e non si vede. Fantastica, fantastica, fantastica. Ma adesso? Posizione numero tre, medaglia di bronzo. A chi va? A Ralf Spaccatutto! Quanto sono bellini! Ma quanto sono belli! Ma quanto... Quanto lavoro c'è stato per fare questi due personaggi. Uno più carino dell'altro. Premesso, io questo cartone animato non l'ho visto però chiaramente avevo visto il trailer e le locandine. E acci d'erbolina. Cioè, Ralf. Una lol che diventa Ralf. Con quel nasone. Con quei pugni giganti. Mamma mia! Ma questa è veramente arte. E anche la giovincella lì, ditemi voi come si chiama, perché io non lo so. È carinissima! Ma mi piace da impazzire con quell'acconciatura e quegli occhioni. Caspiterina! Anch'io vorrei essere in grado di fare queste cose. Troppo belli! E adesso medaglie d'argento. Posizione numero due. Chi arriva? Ah! Ursula! Del cartone animato Ariel. La sirenetta. Caspita! Ma è identica! È identica! È fatta troppo bene! Guardate i capelli! Che lei portava appunto questi capelli così tutti all'insù. che le davano ancora al più il senso di essere una cattivona. Sono fatti meravigliosamente bene. Le sopracciglia sottilissime! Anche lei ha questo ombretto azzurro tutto sfumato. Gli occhi da cattivona. E poi tutti i tentacoli da piovra. Ursula! Wow! Incantevole davvero! Per quanto sia un personaggio negativo chiaramente della sirenetta. Ma è fatta divinamente bene questa Ursula. Ed è sempre... No! Questa qui è di MKS Creations. Wow! E allora adesso andiamo alla posizione numero uno. Medaglia d'oro va... ad Aladin! Ma si scrive con 2D Aladin? Sta venendo un dubbio. Comunque, guardate qua! Tutti i personaggi principali del cartone animato Aladin. Jasmine, Aladin, Abu, il genio e Jafar. Ma che cosa vogliamo dire a queste costumizzazioni? Che sono fatte benissimo! Ma guardate! La scimmietta Abu! Ma quella lì era una lillina! Ma come ha fatto a farla così? Ma è spettacolare! E il genio? No, vabbè! Lì hanno preso direttamente la testa di una LOL e le ha rifatto completamente il corpo. Ma è geniale! È bellissimo! Quanto vi piace il cartone Aladin? A me da matti! Ora vieni con me in un mondo d'incanto principessa è tanto che il tuo cuore aspetta un sì va bene il mondo è tuo no, forse non dovrei cantare comunque bellissime, bellissime, bellissime ma chiaramente voi vedete che il video non è ancora finito perché? Perché io volevo fare una menzione speciale a questa costumizzazione non sapevo in che posizione metterla è bellissima! ma quanto è buccia questa? ma che lavoro c'è stato dietro? wow è bellissimissima! allora adesso io ho un po' un dubbio che però mi scioglierete voi questo è un personaggio di Avatar? che è un po' un film misto cartone? oppure un altro cartone animato che io non ho visto? non lo so mi serve il vostro aiuto la classifica è finita anche il video è finito ma io vi devo ricordare questo logo sn Sara Nicole nel mondo dei giocattoli io penso che penso che ci siamo proprio quindi iscrivetevi perché stanno arrivando nuovi video un bacione a tutti alla prossima puntata grazie a tutti